La psiche ama relazionarsi. Il suo scopo è tessere relazioni. E non a caso sono proprio le relazioni che ci mettono nello stato d'animo di poter rischiare tutto. Infatti la trasformazione psicologica la si ottiene con la follia dell'amore, che è una dimensione capace di portare l'inconscio alla luce. Chi non ama vede il mondo come insignificante, lo vede vuoto e brutto. Perché è la relazione a conferire alla realtà una certa vitalità e una certa bellezza. Ma la relazione implica la rottura del guscio narcisistico. Ecco perché poi il percorso psicoterapeutico, che cos'è? è un'esperienza di rottura del guscio narcisistico, cioè di deradicazione, di annichilimento di ogni affermazione narcisistica dell'io. Ed ecco perché la patologia psicologica rappresenta sempre l'impossibilità a godere pienamente di una relazione. Troverete molti altri video come questo, più lunghi e dettagliati, nel mio canale YouTube. Buona giornata. Grazie. Grazie.